Un ambulante abusivo di Comis aggredisce a scoglitto un vigile urbano e viene arrestato il grave episodio ieri al mercatino del lunedì, provvidenziale l'intervento di una patruglia di carabinieri. Un algerino di 36 anni arrestato dalla polizia perché sorpresa all'interno di un'auto in sosta che aveva appena forzato, l'uomo aveva preso di mira diverse autovetture in sosta a Marina di Ragusa. Convegni a Palermo venerdì prossimo per l'acqua pubblica promosso da Feder Consumatori Sicilia, sul tappeto le tariffe alla qualità del servizio idrico integrato e le proposte dell'Associazione. Sabato scorso a Ragusa, terza assemblea del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici, al centro dell'importante incontro l'analisi approfondita della sanità Iblea e la premazione di medici veterani. Ci sono conclusi domenica sera vittori i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Giovanni Battista, tra le novità di quest'anno anche il passaggio del simulacro alla Madonna delle Nacrine. Benvenuto a un nuovo appuntamento con l'informazione su Eventi Sicili, anche oggi è in apertura con la cronaca a Scoglitti, aggredisce un vigile urbano e viene arrestato. L'episodio nella frazione marinara durante il tradizionale mercatino di ieri del lunedì a finire in manette un'ambulante di comiso abusivo, cui sono stati poi concessi gli arresti domiciliari. Come da tradizione, dopo la festa del Santo Patrono i vittorisi trasferiscono nella loro abitazione estiva a Scoglitti. La loro presenza, oltre a quella dei turisti, attira da sempre l'attenzione di numerosi venditori ambulanti e di conseguenza si intensificano da parte, la forza dell'ordine, i controlli di competenze. E proprio nella giornata di ieri, lunedì, durante un controllo operato dalla Polizia Municipale, nei confronti di un'ambulante abusivo, la situazione è degenerata. Alle richieste, infatti, di esibire licenze e documenti, Antonio Meli, 33 anni di comiso, è andata in escandescenza al punto tale da aggredire i vigili al colpo di cassette di ortaggi. Decisivo si è rivelato a quel punto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri della locale stazione in servizio di controllo sul territorio. Alla vista dei militari, l'ambulante ha cercato di darsi alla fuga, ma è stata immediatamente bloccata e portata in caserma. Qualche graffio e qualche ematoma per un vigile urbano e le manette, invece, per l'ambulante di comiso. Dopo le formalità di rito, l'uomo sono stati concessi gli arresti domiciliari. I carabinieri di Ragusa, invece, sono riusciti a sventare un furto di autovetture presso una concessionaria sulla provinciale 25. Arrivati sul posto, i militari hanno scoperto che c'erano tre uomini incappucciati, i quali, dopo aver tentato di entrare ad una porta di emergenza di un locale, sono stati messi in fuga, appunto, dall'arrivo dei militari carabinieri che continuano ad indagare per scoprire l'identità dei malviventi. Un algerino di 36 anni è stato, invece, arrestato dalla polizia perché, sorpresa, all'interno di un'auto in sosta che aveva appena forzato. L'uomo aveva preso di mira, appunto, diverse autovetture in sosta a Marina di Ragusa. Arrestato dagli uomini dell'ufficio volante alla questore di Ragusa, un algerino domiciliato a vittoria irregolare. L'operazione è iniziata quando un cittadino ha segnalato al 113 la presenza di un uomo che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta, cercando di forzare alcune portiere per poi allontanarsi a bordo di un motociclo. Immediato l'arrivo sul posto delle volanti, che hanno iniziato a perlustare il territorio, rintracciando il soggetto all'interno di una Fiat Punta appena aperta, l'uomo, 36 anni, Ciref Farid, alla vista degli agenti ha tentato di scappare ma è stato subito bloccato. Importanti danni causati a diverse auto in sosta, l'argerino infatti aveva tratto forzato una Opel Meriv ed una Smart e aveva sottratto un accessorio per macchina fotografica ritrovato dai poliziotti e riconsegnato al legittimo proprietario. L'auto invece si presentava con profondi danni alla serratura della portiera completamente divelta. Gli agenti hanno rintracciato quindi i rispettivi proprietari, quali hanno constatato anche la mancanza di una confezione di profumo da donna di una nota marca del valore di 8 e 100 euro, sottratta proprio dalla Fiat Punto. Gli agenti hanno quindi perquisito un motociclo usato all'ex comunità e all'interno del baule hanno trovato un coltello a serramani con un paio di forbici spuntate utilizzate per forzare le serrature delle auto prese di mira e la confezione di un profumo appena sottratta. L'uomo è stato quindi tratto in arresto con l'accusa di furta aggravata e continuata e porto di coltello su disposizione quindi del pubblico ministero di turno è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Carabinieri in azione anche a Modica dove hanno arrestato Rinaldo Noto, 67 anni, modicano e già nota alle forze dell'ordine. L'uomo infatti è responsabile del reato continuato di atti sessuali con minorenni commesso a Modica dal 1995 fino all'aprile del 2003 e in ottemperanza del provvedimento doveva espiare la pena della reclusione di due anni, due mesi, 29 giorni, 5 militari hanno notificato l'ordinanza all'uomo e poi l'hanno condotto presso il carcere di Ragusa. Arrestato invece dai carabinieri un 51enne di Vittoria, sorpresa a passeggiare per le vie del centro cittadino, doveva invece trovarsi a casa perché ai domiciliari. Cambinava tranquillamente in una vede al centro di Vittoria quando invece doveva trovarsi agli arresti domiciliari. Per questo sono scattate le manette per il 51enne pregiudicata Antonino Avola, appizzicato nella mattinata di domenica dai carabinieri dall'Iquota al radiomobile impegnati nell'ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal comandante provinciale di Ragusa e finalizzata la repressione dei reati contro il patrimonio e la giurisdizione di competenza. L'uomo, già nota alle forze dell'ordine che lo avevano arrestato in passato per analoghi e violazioni, stava percorrendo una vede al centro cittadino quando una pattuglia di militari lo ha riconosciuto. L'uomo ha quindi accelerato il passo ma i carabinieri, supportati anche ad altre pattuglie sopraggiunte nel frattempo, gli hanno impedito qualsiasi via di fuga bloccandolo. Considerata quindi l'assenza dal domicilio e mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la misura alternativa alla detenzione, il pregiudicato è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, Monica Monego. Dovrà quindi rispondere di evasione. Gli inquirenti stanno ora vagliando attentamente la posizione dell'uomo per accertare i motivi per i quali non si trovasse a casa. Archiviamo dunque che stampia a pagina di cronaca, cambiamo argomento. Domani sera, prima volta il nuovo Consiglio Comunale di Vittoria, prevista grande partecipazione di pubblico per il battesimo del nuovo civico consesso nato, come sapete, dalle recente amministrative che ha visto l'affermazione a sindaco di Giovanni Moscato. Ci sarà subito quindi da leggere il nuovo presidente, si parla di Andrea Nicosia, mentre il vice potrebbe essere uno tra Peppe Scuderi o Daniele Barrano. A Raguse invece il presidente provinciale del PD Mario D'Asta saluta con soddisfazione il fatto che il segretario nazionale Matteo Renzi, attuale presidente al Consiglio, abbia deciso di fare partire alla festa dell'unità in provincia. Alla fine del mese di agosto Renzi ritorna in provincia, dice D'Asta, non più come sindaco di Firenze, ma come presidente del Consiglio torna da noi, rimarca ancora l'esponente del PD, con maggiore responsabilità per ascoltare quel grido di dolore che è rappresentato da quelle migliaia di migranti che rischiano la loro pelle nelle nostre coste, alcuni forse troppi, perdendo la vita sul mare. Iniziativa di Feder Consumatori Sicilia, venerdì 8 luglio a Palermo, si parlerà infatti di acqua pubblica nel convegno dal titolo Tariffe e qualità del servizio idico integrato con le proposte portate avanti dalla stessa associazione. In Sicilia il servizio idrico integrato a costo nettamente superiore alla media nazionale, mentre la qualità del servizio è spesso ben al di sotto dei limiti minimi. Come se non bastasse, molte delibere dell'autorità per l'energia elettrica nell'isola restano del tutto ignorate. Di tutta questa problematica si parlerà venerdì 8 luglio a Palermo nel corso del convegno dal titolo Tariffe e qualità del servizio idico integrato con le proposte di Feder Consumatori Sicilia, convegno organizzato all'associazione di tutela dei diritti dei consumatori. I motivi del convegno, soprattutto perché crisi idriche come quella recente avvenuta nelle province di Messina e Caltanissetta ed Enna non sono più tollerabili, spiegano dalla stessa Feder Consumatori, e i presupposti che hanno portato a quelle crisi sono tutti ancora presenti. In Sicilia, per di più, viene palesemente calpestata la volontà espressa dai siciliani con il referendum del 2011 con la promozione di una legge di iniziativa popolare e consigliare per l'acqua pubblica sottoscritta da cittadini e consigli comunali. Secondo Feder Consumatori Sicilia, è ora di attuare la legge regionale sul sì, applicare le recenti delibere della GISI e di attivare strumenti di partecipazione attiva da parte dei cittadini e dell'associazione di tutela dei diritti dei consumatori. Cattiva notizia per i comuni siciliani, anche dalla provincia Iblea. Riscossione Sicilia ha infatti inviato cartelle per un totale di 42 milioni a 133 comuni morosi menacciando il ricorso a pignoramenti in caso di ulteriore insolvenza. Si tratta soprattutto di tributi non pagati su immobili comunali. Per la provincia di Ragusa c'è anche Vittoria che deve a Riscossione Sicilia 1 milione 200 mila euro nel centro, nel Mirino e altri centri Iblei, quali Acate, Pozzallo Ragusa e Santa Croce Camerina. Si è svolta sabato la terza assemblea del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici di Ragusa. Al centro dell'incontro l'analisi approfondita sulla sanità Iblea e poi alla fine c'è stata anche una premiazione dei medici giunta al venticinquesimo e cinquantesimo anno di attività. Vivere l'Ordine dei Medici come una casa. È stato l'invito a questo rivolto dal Consiglio Direttivo tramite il presente Salvatore Damanti alla terza assemblea che si è tenuta sabato presso l'Ordine Provinciale dell'Ordine Ragusa, un anno e mezzo di intenso lavoro per lo stesso presidente e per gli altri membri del direttivo. L'assemblea ha offerto quindi momenti di confronto e di dibattito oltre che di analisi dell'attuale situazione storica. Come di consueto è stata anche l'occasione per premare quei medici che hanno raggiunto una tappa importante nella loro carriera professionale, ovvero i venticinque anni e cinquanta dalla loro laurea. Proprio sulle difficoltà attuali si è concentrato l'intervento di Damanti che ha condannato il cosiddetto decreto dell'appropriatezza e le conseguenze che potrebbe avere sulla salute e cura dei cittadini. Non verrebbero più garantite alcun esame essenziale, ha infatti spiegato Damanti, i medici prescrittori potrebbero essere esposti in futura severe sanzioni. Come ordine dei medici stiamo contrastando a livello nazionale l'interpretazione veramente economicistica dell'attività del medico e non escludiamo, dice Damanti, di ricorrere alle vie legali nel caso in cui non si dovesse provvedere al ritiro di questo decreto o ad uno suo radicale cambiamento. Poi sono stati ripercorsi anche risultati raggiunti in questi mesi, dai convegni di approfondimento ai corsi online di formazione, dalle battaglie in campo legislativo, la riforma e la responsabilità professionale all'impegno per un turnover che possa garantire l'ingresso nel mondo medico di giovani laureate e maggiore cura ai pazienti. A giovani medici più lodevoli è stata quindi dedicata un'importante iniziativa, l'assegnazione di quattro borse di studio premio spampinato andate da Alice Gurrieri e Marco Caputo che entrambi hanno colto l'occasione per programmare il giuramento di Ippocrate e quindi Elena Battaglia e Francesco Marino. Durante questa fase si è provveduto all'istituzione di varie commissioni per le problematiche dei giovani medici, per la formazione professionale sulle medicine complementari in base all'accordo Stato-Regioni, per le problematiche sanitarie degli extracomunitari e infine per l'integrazione territorio-ospedale. La situazione ambientalista Fareverde Vittorio interviene in quest'ora a punta a braccetto per i lavori definiti impattanti in area protetta. Dopo tre giorni di solleciti è intervenuta infatti la Polizia Municipale di Ragusa accertando la non conformità dei lavori seguiti con quanto autorizzato. Ci chiediamo, dicono da Fareverde, come possa ancora avvenire che un privato effetto i lavori di spianamento delle sabbe della vegetazione, oltre a movimentare mezze d'operai, tonnellate poi di materiali esterni, atti insomma a creare una nuova via d'accesso senza che nessuno intervenga. Episodi molto gravi, dicono da Fareverde, che gettono ombre sugli attori di questa vicenda. Molte sono le domande che verranno poste con azioni formali nelle sede opportune. A nostro avviso, conclude Fareverde, sembrerebbe essere in atto un nuovo tentativo di alienare il bene pubblico dalla libera fruizione vicenda d'orbide in cui in un fatto è chiaro, conclude Fareverde, ossia col Dipartimento Forestale che non vede, non sente e non risponde al telefono. Festa di San Giovanni Battista a Vittoria. Domenica scorsa la chiusura con devote e fedeli che hanno contribuito ad animare la festività. Giornata caratterizzata ovviamente da un caldo torrido, conclusa con la processione, concerti in piazza e i tradizionali fuochi pirotecnici. Tutto come da tradizione o quasi. La festa in onore di San Giovanni Battista a Vittoria ha infatti ricalcato le precedenti edizioni con la sola ed unica novità del passaggio del simulacro del Santo accolto nella chiesa La Madonna delle Lacrime. Per il resto la prima domenica di luglio, dedicata a questa secolare ricorrenza in un caldo torrido, non si è spostata di una virgola rispetto a quelle precedenti, dopo le messe mattutine e pomeridiane infatti nel tardo pomeriggio l'uscita del simulacro dalla basilica, quindi la processione per le principali vie cittadine, il rientro in chiesa otto il crepitio dei mortaretti, il concerto lirica in piazza del popolo per la gioia degli amanti appunto della lirica e infine la conclusione con i tradizionali fuochi pirotecnici in una periferia cittadina. Come sempre la festività del patono di Vittoria si è caratterizzata anche per dei momenti di folklore, come quella ad esempio legata alla sfilata dei carretti siciliani o alla cena, ossia la vendita all'asta di prodotti e alimenti offerti dai devoti, ma anche per altri momenti, come dire, ludici, come ad esempio la 45esima Coppa San Giovanni di ciclismo. La speciale accoglienza all'ospedale civile del simulacro della Madonna del Carmelo che rimarrà al nostro comio siano a 17 luglio. E' stata poi anche celebrata una messa dedicata alle famiglie che hanno subito gravi lutti. Una cerimonia intensa ricca di trepidazione e fervore religioso ha accompagnato ieri l'arrivo del simulacro della Madonna del Carmelo nella cappella dell'ospedale civile di Ragusa. Ieri la speciale quindi accoglienza curata all'ufficio diocesano per la pastorale della salute diretto da Giorgio Occhipinti. Era presente anche Don Giuseppe Ramondazzo, parroco di Santa Rosalia, il priore del convento dei carmelitani, padre renato dell'acqua e frate Enrico Angileri. All'arrivo della Madonna all'ingresso dell'ospedale i palloncini a forma di cuore di colore bianco e blu hanno fatto da cornice all'ingresso del simulacro. E' stato poi trasportato all'interno e sistemato su uno speciale basamente in cappella. Ogni giorno alle 8 sarà celebrata la Santa Messa, mentre il sabato alle 17 e la domenica alle 10. Il simulacro resterà all'ospedale civile fino al 17 luglio. Durante le funzioni religiose inoltre, per chi lo richiede, si sarà la benedizione e l'imposizione dello scapolare. Durante la permanenza quindi della Madonna in ospedale saranno organizzate anche momenti di preghiera nel reparto insieme con i padri carmelitani. Sempre ieri, da un occupiente a padre dell'acqua, hanno concelebrato la Santa Messa dedicata alle famiglie che hanno subito gravi lutti. In particolare, al termine della celebrazione eucaristica, il cuore di palloncini è stato fatto volare dai genitori del giovane 27enne Salvatore Accetta, che il 3 luglio del 2014 era deceduto in maniera tragica dopo lo sconto con un trattore sulla strada provinciale Ragusa-Santa Croce Camerina. È sempre a Ragusa stata ricordata invece una ragazza, una giovane scomparsa anche prematuramente, cioè Maria Chiari a Leggio. I clown delle associazioni Ci Ridiamo Su e il resto del calzino hanno fatto trascorrere, nel nome appunto di questa ragazza, momenti divertenti a bambini ricoverati nel reparto di pediatria all'ospedale Maria Paterno Arezzo, iniziativa che è stata promossa dalla pastorale della salute e dai genitori della ragazza. Avviamoci verso la pagina sportiva, allora intanto Marina di Ragusa, fine settimana col trofeo Boroli, a trionfare anche quest'anno Malta, abbinata al trofeo la terza edizione della Iblea Cup. E' ancora l'isola di Malta, come è accaduto lo scorso anno, a vincere il trofeo Boroli che si è svolto nel fine settimana. Nelle acque antistanti il porto turistico di Marina di Ragusa. La quinta edizione del trofeo Challenge per la categoria Gran Crociera è stata infatti vinta dall'imbarcazione Elusive di Maya Podesta, figlia d'arte del compianto Arthur, del Royal Malta Yacht Club, secondo posto per l'Allegra 2 di Franco Civello del circolo verico scirocco di Marina di Ragusa, sul podio quindi al terzo posto Inspiration di Godwin Zammet, imbarcazione anch'essa Maltesa. E' stata una competizione al complesso avvincente e per certi versi anche emozionante, soprattutto sabato quando il vento ha permesso prove migliori. Il trofeo avvista anche una quindicina di imbarcazioni giungere dall'Isola dei Cavalieri che si sono unite nella gara con le barche a vela siciliane. Abbinata al trofeo Boroli anche alla terza edizione della Iblea Cup, quando partecipato le imbarcazioni non rientranti nella categoria Gran Crociera. Anche in questo caso grande battaglia finquanto il vento l'ha permesso. Per la categoria A, fino a 11 metri, primo posto per l'imbarcazione dell'artista di Anthony Calla della Royal Malta Yacht Club. Secondo posto per Zoe di Biagio Romano e terzo per Prodigio di Claudio Parisi del Circolo Velico Scirocco. Nella categoria B invece, oltre gli 11 metri, primo posto per Dea di Damiano Agnello del Circolo Velico Scirocco, secondo posto per Sia Sound di Mario 25 e terzo per Maida di Luigi Consoli, entrambi del Nick Catania. In campo per il supporto tecnico, tra gli altri la Capitanere di Porto, Delegazione di Spiaggia di Marina, Protezione Civile del Comune e Porto Turistico. Basket femminile Lia Valerio diventa dunque il nuovo capitano della Passalacqua Spedizione, questo perché è andata via Jennifer Nadalin, per quella Valerio dopo sei anni consecutivi con la maglia bianco-verde, in pratica la fascia le toccava quasi di diritto. Lia Valerio resta ancora alla Passalacqua Spedizione, ma quest'anno con un onore e un onore a portare, ossia la fascia di capitano, stante infatti la partenza di Jennifer Nadalin. Per l'ala Veneta, ormai ragusana di adozione, si tratta del sesto anno consecutivo in maglia bianco-verde, per cui il presidente di concerto col tecnico Gianni Lambruschi ha deciso di affidare la fascia di capitano. Ci abbiamo messo morto a decidere, ha spiegato lo stesso Gian Stefano Passalacqua, ma con Lambruschi eravamo praticamente d'accordo. Per cui le affidiamo questo ruolo importante per le qualità umane, per l'eleganza, l'educazione e la personalità, e siamo sicuri che Valerio saprà incarnare al meglio il ruolo di capitano, che è anche quello di creare un collegamento tra società e squadra. Da parte sua il neo capitano, abbastanza orgoglioso, si è detta felice di poter giocare ancora a Ragusa, perché ha detto è come essere a casa. Avrà in più questo compito, che cercherà di interpretare al meglio, sfruttando anche le conoscenze e l'esperienza della stagione passate. Nella stagione ormai trascorsa, Valerio ha giocato una media di 9 minuti a partita, continuando a rappresentare soprattutto un'arma tattica importantissima per le sue doti difensive. All'espesso, infatti, è stato chiesto di marcare la giocatrice avversaria più pericolosa. Possiamo fermare? Breve pausa dopo. Eventisicilia.tv Il quotidiano online Ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv L'informazione più veloce e sempre aggiornata. Eccoci al ripilogo dei fatti in primo piano. Un ambulante abusivo di Comis aggredisce a scoglitto un vigile urbano e viene arrestato il grave episodio ieri al mercatino del lunedì, provvidenziale l'intervento di una pattuglia di carabinieri. L'ambulante non aveva né licenza né autorizzazione, preso dalla rabbia, lanciato le cassette di ortaggio ai vigili che lo avevano invitato a spostarsi. Per uno di loro lieve matomi giudicati guaribili in pochi giorni. Un algerino di 36 anni arrestato dalla polizia perché sorpresa all'interno di un'auto in sosta che aveva appena forzato. L'uomo aveva preso di mira diverse autovetture in sosta a Marina di Ragusa. Alla vista degli agenti l'uomo ha cercato di fuggire ma è stato immediatamente bloccato. Dentro il baolo del motociclo usato dall'algerino gli agenti hanno trovato anche una coltella a serramanico, un paio di forbici spuntate e oggetti rubati dalle autovetture. Convegno a Palermo venerdì prossimo per l'acqua pubblica promosso da Feder Consumatori Sicilia. Sul tappeto le tariffe alla qualità del servizio idrico integrato e le proposte dell'associazione. Un convegno per evitare soprattutto che possono capitare crisi idriche come quelle recente nelle province di Messina, Caltanissette ed Enna. Secondo Feder Consumatori Sicilia è arrivato il momento di attuare le leggi regionali sul sì e le delibere della Gessi. Sabato scorso a Ragusa terza assemblea del consiglio direttivo dell'ordine dei medici. Al centro dell'importante incontro l'analisi approfondita della sanità iblea e la premazione di medici veterani. Vivere l'ordine dei medici come una casa, questo è un invito rivolto dall'assemblea col presente Salvatore Damanti che ha ripercorso l'attuale situazione storica. Nel mirino ha alcuni esami essenziali che non verrebbero più garantiti all'utenza. Si sono conclusi domenica sera vittori i solenni festeggiamenti in onore del santo patrano San Giovanni Battista, tra le novità di quest'anno anche il passaggio del simulacro alla Madonna delle Lacrime. Una festività che si è caratterizzata come sempre da momenti di folclore come quella ad esempio legata alla sfilata dei carretti siciliani o alla cena all'asta. La processione di quest'anno ha interessato anche altre vie mai toccate in passato. È tutto, grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per la visione!